Oh, fa fame, quando è l'intervallo? Quando suona la campanella, semplice, no? Cos'hai di buono? Una robina così leggera che non arrivo al pranzo. La mia è così pesante. E allora passate a Kinder Brioche, semplice, no? Tu lo sai, Kinder Brioche è così semplice, lievitata naturalmente, come il pane, con la bontà della crema al latte. Ecco perché la scegli per lui. Mi piacerebbe? Un sacco. Kinder Brioche, una scelta semplice.